Buonasera a tutti, ringrazio il professor Fompa Bedretti per questo invito, cercherò di essere breve perché raccontare tutto quello che è stato in cinque anni potrei stare qui per due settimane a raccontarlo. Diciamo che è stata un'esperienza bellissima dove fondamentalmente ho avuto l'opportunità di incontrare professori che da subito hanno creduto in me, hanno creduto nel mio valore, nel mio e quello di tutti i miei compagni, di tutti gli alunni, cioè la possibilità di essere guardati, accompagnati verso la propria strada, nello studio, nell'approfondire, le materie che ci sono da studiare. Io mi sono diplomato a luglio del 2014 e ho deciso di andare a lavorare. Una delle cose più belle appunto per quello che dicevo prima è che nessun professore mi ha mai detto che cosa avrei dovuto fare. Questa cosa io l'ho apprezzata tantissimo perché mi hanno accompagnato a capire quale fosse la strada per me nel continuare. Ringrazio tutti i professori per credere nei ragazzi e per accompagnarli in questo cammino che è fondamentale per la vita di ognuno. Io credo e mi sento cresciuto tanto, è stata data la possibilità di diventare uomo e continuare a diventare. Grazie. Grazie.